segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te nel 2018 lei guidava una forza politica che aveva i sondaggi dalla propria parte oggi insieme per il futuro è quotato intorno al 1,8 per cento e al momento non ha un simbolo e i tempi sono serratissimi per raccogliere le firme ve lo farete prestare il simbolo nei prossimi giorni avrete tutti i dettagli ma io sono tranquillo perché il tema non è la singola forza politica il nostro progetto è solido perché sebbene in pochissimo tempo abbiamo aggregato sindaci associazioni di società civile tanti cittadini che vogliono costruire con noi e ve ne daremo tutti i dettagli nei prossimi giorni il vero tema adesso che deve interessare a tutti quanti e se riusciamo a costruire proprio nel solco di questo shock perché che si vada a votare è una cosa normale per i partiti per i cittadini in questo momento che si vada a votare il 25 settembre è sicuramente una cosa inedita e ovviamente come con tutti coloro che vorranno candidarsi insieme a me per rappresentare un progetto che riguarda sicuramente il territorio del paese i giovani italiani e le imprese italiane queste tre cose sono accomunate da un grande nemico la burocrazia e da un grande problema la guerra in ucraina che sta producendo effetti economici sociali devastanti rispetto a questo voglio dirvi solo un'ultima cosa io insieme agli altri che abbiamo lavorato a sostenere il governo draghi credo che abbiamo la credibilità per proporre delle ricette e delle soluzioni che quelli che hanno fatto cadere il governo adesso vi vengono a dire che vogliono risolvere i problemi ma perché non li hanno risolti quando stavamo al governo con draghi che tra l'altro otteneva spazi di manovre economici per l'italia più alti ai tavoli internazionali lei parlava di questo soggetto dei moderati che con buone probabilità dialogherà con quel campo progressista e democratico che ha lanciato ieri letta però proprio questa mattina carlo calenda non ha usato buone parole nei suoi riguardi anzi sembra che l'atteggiamento sia quello di porre dei veti glielo faccio sentire e poi lei me lo commenta la presenza di di maio potrebbe essere un problema veramente non so di chi lei stia parlando non lo so di maio chi è un po una rievocazione di di renzi quando dice fassina voglio dire ai cittadini italiani una cosa fino alle liste si presentano le coalizioni si presentano tra il 12 e il 14 agosto quindi purtroppo nelle prossime settimane ci sarà un dibattito perché le coalizioni sono fondamentali per andare uniti contro gli estremismi ed è chiaro che questo dibattito interesserà tutti quanti noi io voglio solo esprimere una cosa che è un concetto che per me è un valore essere uniti in questo momento coloro che hanno provato a salvare il governo di unità nazionale che doveva fare dei decreti per cercare di stanziare i fondi per tutte quelle famiglie e imprese italiane che hanno enormi costi in questo momento storico credo che sia un valore essere uniti costruire l'unità nazionale è un valore ci lavoreremo e poi gli italiani decideranno quindi lei crede di poter convincere calenda torna non è un tema di convincere una persona io credo che tutti quanti noi come nazione ci dobbiamo convincere in questo momento storico che essere uniti intorno a programmi e visione di paese sia un grande valore dopo di che di mai io le chiedo perché altri hanno già preso posizione in questo senso i moderati che lei si candida rappresentare o concorrere a rappresentare e vogliono esprimere la prosecuzione dell'esperienza di mario draghi anche oltre questa legislatura cioè il vostro programma è riportare draghi a palazzo chigi io credo che l'italia abbia bisogno ancora di draghi e spero che non lo capisca perché non c'è più o non ci sarà più mario draghi il vero tema però voglio dirlo anche con molta concretezza è che ci sono una serie di cose da fare che erano nell'agenda draghi noi stavamo per ridurre il cuneo fiscale ed è saltato a causa della crisi di governo stavamo per agire sul salario minimo però agire in maniera razionale metti intorno al tavolo le parti sociali costruisce un salario minimo che dice che d'ora in poi le persone non possono guadagnare due euro all'ora perché schiavismo allora questo assenso e lo dobbiamo costruire nel solco dell'agenda draghi se poi mario draghi potrà essere ancora presidente del consiglio voi lo sapete nel governo draghi sono stato uno dei suoi più fermi sostenitori